Ciao ragazzi e bentornati! Siamo arrivati al terzo e ultimo capitolo introduttivo che ci spiega i principi fondamentali per comprendere meglio il programma Autodesk Maya. In questa ultima parte soprattutto introdurremo un concetto molto importante che sta alla base della modellazione 3D, quello della topologia. La topologia è la distribuzione delle edges, più comunemente chiamate in italiano come bordi, all'interno di una mesh, che, composte tra di loro, devono formare sempre per essere corrette quattro angoli e quindi una forma geometrica associabile a un quadrato, come potete vedere dalle immagini qui in figura per rendere meglio questi bordi. Se non viene rispettato questo parametro, si creano delle end goals, e cioè delle figure con più di quattro bordi, che nella fase di animazione o nella fase di rendering possono creare, e anzi creano, tante complicazioni. Adesso non ci resta altro che approfondire meglio questo discorso andando all'interno del programma. Prima di iniziare a lavorare su queste due figure primitive per ribadire ancora meglio il concetto relativo alle end goals e alla topologia, prendiamo un attimo il cubo e portiamolo leggermente avanti, ingrandiamo, e cerchiamo di capire ancora meglio perché il discorso che è stato detto poco fa, l'introduzione di questo video, è molto importante. Tanto per cominciare, se volessimo fare tipo Bevel, il comando che avete conosciuto nel video, nel secondo capitolo di questa trilogia, solo agli angoli di un po' di Q, Allora, la forma, come vedete, cambia, soprattutto alle due facciate, alle due facce estreme, che presenteranno come figura geometrica non più un quadrato, ma in questo caso addirittura un ottagono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sia ottagono, e posso aggiungere anche un altro segmento. Ecco, ora che cosa succede? Perché stiamo un attimo prendendo in analisi il cubo? Perché supponiamo io adesso volessi provare a applicare lo smooth, che si attiva premendo il pulsante 3 della tastiera, la forma si scombussola completamente, in particolare proprio ai due estremi delle facce, 1 e 2. E questo perché praticamente il problema è dovuto proprio dal fatto che non ci sono un insieme sufficiente di quadrati per creare una topologia pulita. Perché qui non ho quattro lati, ma ne ho ben otto, stessa cosa dall'altra parte. Ed ecco che quindi, di solito, uno dei comandi che ci serve per correggere eventuali endgons è proprio quello del Multicat Tool. Lo attivo, mi seleziono il vertice in rosso, clicco su questo vertice e clicco su quest'altro, quando li unisco con questa retta, pulsante destro del mouse, ed ecco che si è unito, ripeto la stessa operazione qui, e il motivo per cui lo faccio è perché adesso, qui si sono creati 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 angoli. E ripetiamo il processo anche per tutta la parte successiva. Una volta che abbiamo quindi collegato tutti gli angoli, quando vado a premere 3, non succede più quella forma anomala di prima, perché abbiamo mantenuto una topologia pulita. E abbiamo fatto un attimo rapidamente questo esempio, perché ci è servito come pretesto per introdurre ancora un altro comando, dopo Extrude Bevel, cioè quello di Multicat Tool, che già da questo esempio ci può far capire quanto sia importante per correggere la topologia, nel momento in cui lavoriamo con un modello. Possiamo cancellare questo e ritorniamo quindi alle due polisphere primitive per introdurre adesso un altro comando molto importante. Ma prima di introdurlo, cerchiamo di capire per quale motivo ho messo questi tre polisilinder affiancati a questa sfera. Perché? Supponiamo che volessi fare una palla da bowling, ok? E se per fare una palla da bowling bisogna fare una sfera dei buchi, appunto, al centro, questi buchi li posso fare in due modi. Uno attraverso dei comandi che sono quelli più corretti per mantenere sempre la topologia e quindi la geometria del nostro solido pulita, e un altro attraverso alcuni comandi che vengono assolutamente sconsigliati, che sono le cosiddette operazioni booleane. E adesso capiremo il perché. Allora, se io adesso prendo i tre cilindri, vado su Mesh, Combine, e li unisco, seleziono prima la sfera, e poi i tre cilindri, vado su Mesh, Booleans, Differences, i tre cerchi si sono creati proprio come una palla da bowling. E voi potreste dire, vabbè, qua sembra tutto perfetto, insomma, i cerchi ci sono, leviamo Wireframe on Shade. Tuttavia, però, che cosa succede? Che quando provo ad applicare lo smooth, come abbiamo fatto prima per il cube, anche in questo caso si sono creati dei problemi e degli artefatti, soprattutto in corrispondenza dei cerchi. E questo perché? Questo perché, praticamente, qui, se andiamo ad analizzare meglio la topologia, abbiamo un sacco di engonsi in questa parte qua. E qui abbiamo la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 angoli. Volendo potremmo risolverli con il Multicart Tool, volendo, però, sarebbe un processo troppo complicato e soprattutto le operazioni booleane sono sconsigliate. Quindi, andiamo a prendere adesso in analisi questa polistirra. Qui sono stati modificati dei parametri di subdivision axis e subdivision height, che quelli standard sono 20 e qui sono stati messi 32 e 32. E andiamo, quindi, a utilizzare questa primitiva per conoscere meglio anche un altro tipo di operazione che può tornare molto utile, che è quella, appunto, di circularize. Come prima cosa, passiamo in modalità face, selezioniamo 16 facce. Ecco, non è importante quanto spazio lasciate, è solo un modo per capire ancora meglio l'oggetto di studio di questa ultima parte introduttiva al programma Autodesk Maya. Ora, con tutte le facce selezionate, quindi, andiamo su Extrude, premiamo il cubetto generico, posso anche premere quello rosso o quello verde, è indifferente, premiamolo per accedere al manipolatore dello scale, premiamo questo, invece, cubetto centrale, per scalare uniformemente, andiamo adesso al comando con le facce sempre selezionate, scendiamo magari solo giusto un altro po', e andiamo adesso al comando Circularize, si è creato un cerchio, non vi preoccupate se ve lo trovate grande come nel mio caso, diminuiamo il Radial Offset per farlo entrare proprio all'interno dell'area su cui abbiamo applicato Extrude, portiamo un Normal Offset giusto leggermente avanti, ma di 0.1, ora con queste facce selezionate di nuovo Extrude, premiamo quello bleh e portiamo all'interno, con queste facce selezionate, adesso applichiamo Bevel, diminuiamo Fraction a 2, anzi, a 2, e si lasciamo a 2, selezioniamo adesso l'Edge perimetrale, passiamo in modalità Edge, pulsante destro del mouse, andiamo su Bevel e anche qui lasciamo a 3, in questo caso, e come potete vedere si sono creati 3 cerchi, proprio come in quella in cui abbiamo applicato l'operazione booleana, però se qui quando premo 3 succede questo artefatto per via della topologia che non è corretto, quando premo 3 invece il cerchio è perfetto e soprattutto la cosa importante è che premiamo 1 per disattivare la topologia si mantiene pulita perché in tutti gli angoli abbiamo sempre 4 bordi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e così via e con questo quindi chiudiamo la terza e ultima parte introduttiva al programma Autodesk Maya grazie a tutti per aver ascoltato e buon lavoro grazie a tutti